La storia che voglio raccontarvi oggi sembra finta, una di quelle inventate per spaventare i più piccoli, una leggenda metropolitana. Farete fatica a crederci, ma purtroppo è tutto vero. Questa è la storia dell'uomo che ha terrorizzato la Russia. Ragazzi, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Oggi comunque voglio parlarvi di una storia di cui non si parla molto, anzi è praticamente sconosciuta, eppure è relativamente recente ed è davvero brutale. Sono sinceramente sorpreso del fatto che si sia parlato così poco alla fine di questa vicenda. In ogni caso bando alle ciance e iniziamo con il file di oggi. Ci troviamo in Russia, più precisamente nella capitale, Mosca. Questa città ovviamente non ha bisogno di presentazioni, è una delle città più famose al mondo e il centro politico ed economico della Russia. Nei primi anni 2000 dopo la caduta dell'Unione Sovietica, certi quartieri di Mosca sono rimasti molto poveri. Per esempio a sud della città c'era un'intera area dove abitavano persone molto sfortunate. Parliamo di intere famiglie che vivevano sotto la soglia di povertà. Le strade non erano sicurissime, non erano per niente sicure. Certi edifici erano fatiscenti, una fonte afferma che persino la polizia non era per niente efficiente. Non so sinceramente come sia adesso nel 2024, ma in quegli anni era così. A quanto pare molti poliziotti erano corrotti, per cui non c'era da fidarsi delle istituzioni, ma in generale proprio di nessuno. Per anni questo quartiere è stata la casa di molti precari e operai. A quanto pare continua ad esserlo. Ma c'è una cosa di cui vanno fieri gli abitanti di questo soborgo. Un posto a cui tengono particolarmente. Un parco. Il Bizevski Park, chiamato anche Bizza Park. Che è il polmone verde di Mosca. In termini di grandezza supera di gran lunga Central Park di New York, giusto per farvi capire. Nelle belle stagioni è un posto perfetto per passaggiare, fare picnic, portare a spasso i bambini, il cane. E anche giocare a scacchi. Perché ci sono delle aree apposite con i tavoli, con disegnate le scacchiere. L'inverno poi è ancora più bello perché dà la possibilità a tutti anche di sciare un po' con la neve soffice che ricopre tutto quanto il parco e che offre una vista decisamente suggestiva. Ecco, un tesoro naturale di questo tipo è molto caro agli abitanti del quartiere. Perché rappresenta per loro una delle pochissime cose belle che hanno a disposizione. Per un po' è stato anche un posto tranquillo, ma dall'inizio del nuovo millennio qualcosa è cambiato. È da questo punto in poi che il bellissimo Bizza Park diventa un luogo famigerato e molto pericoloso. Ma cosa è successo esattamente? Allora, tutto comincia dalla sparizione di dieci persone. Dieci sconosciuti che non c'entravano niente l'uno con l'altro. E che per diversi motivi sono andati al Bizza Park e non sono mai tornati a casa. Dopo un po' di tempo i familiari di queste dieci persone scomparse, giustamente preoccupati, chiedono aiuto alle forze dell'ordine. Loro però non fanno granché. Anzi, se la prendono con i parenti di questi dieci scomparsi dicendo che le vittime se la sono cercata. Una cosa veramente vergognosa, se posso dire. Anche perché dicono loro, senza farsi troppi problemi, che molto probabilmente questi loro parenti scomparsi erano degli ubriaconi. Delle persone, boh, così. Quindi immaginate ricevere questo tipo di commenti dalle forze dell'ordine. Cioè non deve essere per niente piacevole, anzi. Ma comunque i parenti ovviamente non accettano questa spiegazione, dato che più che una spiegazione sembra un insulto. Non possono credere di aver ricevuto questo feedback dalla polizia, ma non possono comunque fare nulla. Anche perché quella, in effetti, era l'unica spiegazione. Era probabile che molti di questi scomparsi effettivamente fossero ubriaconi. Quindi chissà che cos'era successo veramente. Ed è questo il paradosso. Ciò non toglie che comunque quei poliziotti sono stati maleducatissimi. Comunque non si capisce come e perché questa gente sia sparita nel parco, più precisamente nell'area boscosa del parco. Nessuno ha idea di dove siano e giustamente cominciano tutti a temere il peggio. Il quartiere era già abbastanza malfamato. Succedevano cose spiacevoli, c'era gente pericolosa. Per gli abitanti era assurdo che anche il Vizza Park fosse diventato pericoloso. Fino a quel momento era stato un piccolo paradiso per tutti. L'unico spiraglio di luce e di gioia in quel posto triste e grigio. Di sicuro è successo qualcosa di terribile, ma dato che nessuno si fa avanti per dare delle risposte o comunque non si trova un colpevole, tutti sono terrorizzati. Anche perché più passa il tempo e più le sparizioni aumentano. Il conteggio delle persone scomparse continua a salire gradualmente e non accenna a fermarsi, tantomeno a diminuire. Tutti questi nuovi scomparsi poi sono svaniti nello stesso identico modo, più o meno. Tutti loro sono stati visti da soli nelle zone più remote, tra virgolette, del Vizza Park. Per questo qualcuno ha pensato che si fossero persi, ma in realtà era molto difficile. C'era per forza qualcosa sotto. Le famiglie delle nuove vittime chiedono ovviamente aiuto alla polizia, ma gli agenti ripetono le stesse cose. Dicono che è colpa loro, che se la sono cercata, che sono responsabili della loro stessa sparizione. E ancora una volta, nessuno apre un'indagine, nessuno si interessa così tanto alla vicenda. Certo, si comincia a parlarne, cominciano a girare varie teorie, pettecolezzi, ma nessuno ha ancora il coraggio di andare a fondo alla questione. Il parco diventa semplicemente l'ennesimo luogo da non visitare. E per ben quattro anni, le sparizioni continuano ad avvenire. Come immaginate, il terrore si diffonde e diventa parte della quotidianità di moltissime persone. A causa di questi eventi, nella zona, non c'è alcun luogo felice. Non c'è più. Nessun piccolo paradiso in cui potersi illudere di stare leggermente meglio. Le fonti che ho trovato online riportano date diverse per quanto riguarda l'inizio delle sparizioni. Anche perché, non essendoci indagini ufficiali, all'inizio è stato difficile stabilire un punto di partenza. La prima sparizione risale più o meno al 92, mentre poi hanno iniziato veramente a sparire tantissime persone a partire dal 2001-2002. Ma intanto il tempo passa in questo modo e si arriva al 2005. Ormai da quel parco sono sparite una quarantina di persone. È un numero, ragazzi, allucinante. Per la gente del posto ormai è diventata una cosa comune, però. Una sparizione ogni tanto non fa più tutto questo scandalo. Pensate quanto fossero desensibilizzati. Tanto erano frequenti quelle sparizioni. La pulizia, in tutti quegli anni, non ha fatto assolutamente niente. E anche la gente comune non ha fatto niente. Tutti hanno accettato silenziosamente questa cosa. E nessuno si è mai mosso per risolverla una volta per tutte. Eppure, nel novembre 2005 succede qualcosa che cambia tutto. Un ex poliziotto di nome Nikolai Zakarchenko, nel novembre del 2005, sta facendo la sua solita passeggiata al Bizza Park. Nonostante l'alone di mistero che circonda la zona, lui comunque ci passeggia a testa alta. È un uomo di una certa età, ma si sente forte e deciso. Non ha paura di niente. E anche se conosce tutte le storie che circolano sul parco, è convinto di poter gestire la situazione. Non ha alcun timore di essere lì. Eppure, quel giorno, dal Bizza Park, non fa ritorno. Anche lui diventa uno dei tanti scomparsi della zona. Lui però non è un uomo comune, passatemi il termine. È un ex poliziotto. I familiari allora provano a loro volta a chiedere aiuto alla polizia, ma sorprendentemente, ancora niente. Neanche questa volta fanno nulla. Quindi passa un po' di tempo, e in una zona molto remota del parco, un uomo trova qualcosa di terribile. Un corpo. Per cui questa persona chiama la polizia. Questa arriva per controllare, e finalmente accetta che c'è qualcosa che non va. Sono finalmente disposti ad indagare. Perché è stato trovato un corpo, ci sono delle prove evidenti, che non possono essere ignorate. E quello è proprio il corpo di Nikolai Zakarchenko. È vestito, è riverso pancia in giù, ed è stato colpito alla nuca, ma non con un'arma da fuoco. La causa del decesso è un trauma da corpo contundente. Deducono quindi che sia stato aggredito da una o più persone, o addirittura da un animale. Si rendono subito conto che sono davanti ad un omicidio. Qualcuno deve aver preso Nikolai alla sprovvista, colpendolo da dietro con un oggetto piuttosto pesante. Un colpo che è stato fatale. Allora la polizia si mette alla ricerca nelle zone circostanti, ma non trova nulla. Finalmente comunque uniscono i puntini, alleluia, e capiscono che c'è un assassino seriale che si aggira da anni in quel parco, e agisce totalmente indisturbato. In tutto ciò ovviamente la notizia del ritrovamento del corpo di Nikolai viene diffusa e parte un'isteria generale. Se fino a quel momento il parco era diventato poco frequentato, adesso si svuota completamente. Finché le sparizioni rimanevano sparizioni, molti avevano solo il dubbio che ci fosse qualcuno di pericoloso. Ma adesso, con un cadavere, il cadavere di un ex poliziotto, un uomo serio, forte, che sapeva difendersi da solo, tutti semplicemente vanno in panico. Perché hanno la sicurezza che ci sia qualcuno di pericoloso. Ma la cosa strana è che gli altri corpi, quelli delle persone scomparse precedentemente, non vengono ritrovati. Quindi ragazzi, in qualsiasi posto questo killer li avesse nascosti, ha fatto davvero un buon lavoro perché gli agenti, nonostante abbiano cercato e cercato ovunque nel parco, non hanno trovato nulla, zero. Le persone del posto quindi cominciano davvero a temere il peggio e danno un nome a questo assassino. Cominciano a chiamarlo il Maniaco del Bizza Park. Se tutte le persone scomparse sono state uccise dallo stesso killer, ipotesi che comincia a farsi spazio tra gli agenti e gli abitanti, allora dove sono? Come ha fatto a farli scomparire nel nulla? Nonostante le varie ricerche, purtroppo gli investigatori non trovano veramente niente e questo ovviamente alimenta ancora di più la paura dei cittadini. A partire dal ritrovamento dell'ex poliziotto, il Bizza Park comincia ad essere sorvegliatissimo. Ogni giorno tantissimi agenti pattugliano le strade e le zone più remote, cercando i corpi degli scomparsi e in realtà anche qualsiasi indizio che avrebbe potuto aiutarli. Eppure, nonostante tutto questo, la gente continua a sparire. È una cosa davvero allucinante. Cioè, com'è possibile? A questo punto o la polizia non sta controllando abbastanza, oppure il presunto killer è fin troppo bravo ad uccidere. In ogni caso si tratta sicuramente di un individuo estremamente pericoloso. Da quando il corpo di Nicolai è stato trovato nel novembre del 2005 fino al mese di aprile del 2006, altri nove uomini scomparvero nel nulla. Questa volta però le cose cambiano rispetto al passato. La polizia finalmente si interessa al caso, prende seriamente queste sparizioni e dopo poco tempo, effettivamente, trova i corpi senza vita dei nove uomini che erano scomparsi dopo il ritrovamento di Nicolai. Tutti presentano una grande ferita alla testa, come quella di Nicolai. Ma a differenza sua, la maggior parte di queste vittime viene ritrovata con una grossa bottiglia di vodka incastrata letteralmente nella ferita, in testa. Evidentemente l'assassino ha deciso di diventare più crudele con le vittime. E forse non è un caso che, oltre a Nicolai, solo questi altri nove uomini siano stati ritrovati. Forse tutto questo fa parte di un piano, oppure una dimostrazione di forza e violenza, giusto per intimorire la polizia. In questo periodo comincia anche a nascere l'ipotesi che l'aggressore non agisca da solo, ma non c'è nessuna prova che la confermi o smentisca. Ad ogni modo la situazione peggiora di giorno in giorno, e ancora nessuno ha la minima idea di chi sia il colpevole, né dove si nasconda. La cosa certa è che conosce il parco a memoria, altrimenti non sarebbe riuscito ad uccidere, data la presenza delle forze dell'ordine ovunque. Probabilmente aveva qualche nascondiglio. Oppure riusciva a mimetizzarsi bene. In ogni caso ormai il parco diventa semi-deserto, ci sono solo gli agenti che pattugliano e davvero pochissimi civili che ancora hanno il coraggio di addentrarcisi. Uno di questi civili, molto coraggioso, è un giovane di nome Alexander Pichushkin, di 32 anni. Lui è un tipo un po' solitario, ma cerca comunque di trovare qualche amico, non si arrenda alla solitudine, vuole vedere il bicchiere mezzo pieno e spera di incontrare qualcuno con cui passare il tempo. La sua è una storia curiosa, sentite. Alexander è nato il 9 aprile 1974 e al momento dei fatti vive in un appartamento nel quartiere povero a sud di Mosca. Nonostante l'età, vive ancora con sua madre, con la sua sorellastra, più giovane, il marito di lei e il loro figlio. È lo stesso appartamento in cui è nato, che si trova a soli 6 minuti a piedi dall'estremità nord del Pizza Park. Non sappiamo molto della sua infanzia, ma si crede che da piccolo fosse un bambino molto socievole, almeno all'inizio. Tuttavia la situazione è cambiata in seguito ad un incidente. Un giorno a 4 anni il piccolo Alexander è caduto da un'altalena e, rialzandosi, quest'altalena che intanto tornava indietro lo ha colpito con violenza alla fronte. E la sua famiglia, essendo povera, non aveva i soldi per portarlo in ospedale o fargli fare delle visite specialistiche. Per cui quando il bambino si è alzato e ha cominciato a cabinare più o meno tranquillamente, i genitori hanno pensato che stesse bene e non hanno approfondito oltre. Peccato però che, a seguito di questo incidente, del vecchio Alexander non rimase alcuna traccia. Le sue abilità cognitive erano state compromesse e da quel momento il bambino è diventato ostile e impulsivo. Sembrava non ragionare come la maggior parte dei suoi coetanei e, per via di ciò, i suoi compagni di classe cominciarono a demarginarlo. Sembrava che nessuno gli volesse bene e, anzi, a scuola cominciarono addirittura a bullizzarlo chiamandolo ritardato. Alexander si ritrovò senza amici, totalmente solo e deriso da tutti. A causa di questi evidenti problemi, sua madre decise di trasferirlo dalla scuola normale, passatemi il termine, ad una per bambini con difficoltà di apprendimento. Sperava davvero che così facendo la sua situazione sarebbe migliorata. In realtà però non cambiò assolutamente nulla. Tutte queste cose ovviamente lo facevano arrabbiare molto. Cioè, non riusciva a stare tranquillo, si sentiva incompreso e senza una reale ragione. Raggiunta la prima adolescenza, suo nonno materno venne a conoscenza delle sue difficoltà a scuola, sulle sue difficoltà a socializzare, farsi amici e in più scoprì che veniva bullizzato. Quindi decise di diventare il suo mentore, diciamo, di prenderlo sotto la sua ala. Lui forse era l'unico a vedere in Alexander del potenziale inespresso. Era l'unico a credere davvero in lui. Suo nonno non lo considerava diverso, strano o addirittura ritardato. Anzi, non voleva che il suo potenziale venisse sprecato in quella scuola, nella scuola che stava frequentando. Pensava che suo nipote lì stesse solo perdendo tempo. Così lo ritirò da quella scuola e lo portò a vivere a casa sua. Alexander era felice di stare a vivere da lui. Sentiva finalmente di potersi fidare di qualcuno. E il nonno intanto decise di insegnargli e trasmettergli la sua passione, gli scacchi. Nel giro di pochissimo tempo, davvero si parla di pochissimi giorni, Alexander imparò a giocare a scacchi e diventò davvero bravissimo. Non si aspettava che fosse così divertente, ma scoprì che gli piaceva un sacco. Riuscì subito a fare sue le regole del gioco e iniziò a comporre complicate strategie di vincita durante le partite con suo nonno. Molto presto infatti cominciò a battere il suo maestro ad ogni singola partita. Questa per lui fu la prova che non era così stupido come gli avevano fatto sempre credere i suoi compagni. Anzi, sentiva finalmente di essere bravo in qualcosa, di non essere così diverso e di avere anche una sorta di scopo nella vita. Suo nonno, vedendo il suo talento, cominciò a portare Alexander al Bizza Park, in cui lo faceva partecipare a delle partite di scacchi contro alcuni signori che avevano l'abitudine di ritrovarsi lì e giocare appunto a scacchi. Questi signori poi erano bravissimi, molto più bravi del nonno di Alexander, ma nonostante questo, il ragazzo li batteva sempre. Suo nonno era davvero orgoglioso di lui e le persone con cui giocavano al parco, spesso uomini anziani o comunque di mezza età, erano davvero contenti di stare in compagnia del giovane. Lo ammiravano, non potevano credere che fosse così bravo a giocare a scacchi. Quindi molto presto si affezionarono a lui e una volta venuti a conoscenza del fatto che veniva bullizzato, gli dissero che lì al parco, per lui, ci sarebbe sempre stato un posto speciale. Questo è il miglior momento della vita di Alexander. Finalmente si sentiva ascoltato, accettato e ben voluto in un gruppo di amici. Non gli era mai successo prima. Ovviamente comunque il ragazzo continuava ad andare a scuola, credo a questo punto in una scuola normale, passatemi di nuovo il termine. Ma purtroppo continuava ad essere vittima di bullismo, non aveva alcun modo per sfuggire alle cattiverie dei suoi compagni. E questa cosa del bullismo è proprio un ciclo che si ripete, cioè non riusciva proprio a liberarsene. Allora il ragazzo cercava proprio di sfogarsi giocando a scacchi, all'inizio l'ha preso come un passatempo, un'attività divertente, ma per tutti questi motivi diventò un'ossessione. Doveva sempre giocare e sempre vincere. Lo aiutava a calmarsi, dato che era l'unica cosa che credeva di saper fare. Così passarono gli anni e nonostante nel parco cominciarono ad avvenire tutte quelle sparizioni, lui comunque continuava ad andarci, sempre per giocare a scacchi con i suoi amici. Non poteva proprio farne a meno. Tanto che nel periodo in cui il terrore si era propagato in città per via del ritrovamento dei corpi, sua madre lo supplicava dicendogli di non andare a parco, almeno per un giorno, che era pericoloso, non era sicuro. In effetti anche alcuni dei suoi amici con cui giocava a scacchi erano scomparsi nel nulla. Ma lui si ostinava sempre comunque e le diceva di non preoccuparsi. In effetti riusciva sempre a tornare a casa, ma era davvero uno dei pochissimi che ancora avevano il coraggio di mettere piedi in quel parco ormai maledetto. Arriviamo così al 2006, Alexander ha 32 anni e lavora come magazzinieri in un supermercato. Intanto il numero di persone scomparse raggiunge la cinquantina e dieci invece sono i cadaveri ritrovati. Ed è in questo periodo che accade qualcosa che avrebbe dato finalmente una svolta al caso. Nell'aprile del 2006 Alexander va a lavoro come tutti i giorni, ma quel giorno c'è una nuova collega al supermercato. Si tratta di una donna bellissima e più grande di lui, che si chiama Larissa Culigina, ha 48 anni. Purtroppo non sono riuscito a trovare le sue foto, in generale in questo caso ci sono veramente poche foto. Alexander comunque la vede e si sente subito attratto da lei, gli sembra diversa dalle donne che aveva conosciuto in passato. Essendo stato emarginato per tutta la vita, non aveva mai avuto una fidanzata e quindi non aveva neanche mai avuto confidenza col genere femminile, ma con lei sente qualcosa di diverso. Larissa ai suoi occhi risulta particolare, unica nel suo genere, però non sa come approcciarsi, è timido, non sa proprio cosa dirle. Per tutto il giorno, a lavoro, lui la guarda in lontananza, cerca una scusa per attaccare il bottone ma semplicemente non ci riesce. Abbastanza creepy come situazione. Così comunque alla fine dei loro turni, che per caso finivano nello stesso momento, fanno entrambi per uscire dal negozio. Alexander in quel momento decide che deve per forza parlarle, che non può farsi scappare quest'occasione. Però si avvicina e non gli escono le parole di bocca. Una volta usciti di lì tuttavia, Larissa si mette una sigretta in bocca e comincia a cercare un accendino nelle tasche, nella borsa, ma si trova un po' in difficoltà, non lo trova subito. Vedendo questa scena, Alexander le offre il suo e da lì, finalmente, iniziano a chiacchierare. Si avviano insieme verso l'appartamento della donna, continuando a chiacchierare e sembrano trovarsi davvero bene. Lui non poteva sperare in meglio. E anche lei si trova a suo agio in sua compagnia. Dopo un po' però arrivano di fronte all'appartamento di lei, ma non volendo che questa interazione è così piacevole e si fermasse così, Alexander le chiede di fumarsi un'altra sigaretta insieme, facendo magari una passeggiata al Bizza Park. Tutti sapevano che quella zona era totalmente da evitare, ma come vi ho detto, per l'uomo non era un posto pericoloso, anzi era l'unico posto in cui poteva giocare a scacchi e stare sereno. Larissa, nonostante fosse al corrente di tutto ciò, veramente sapeva di tutte le sparizioni, accetta comunque di andarci. Alla fine non era sola, era con Alexander, si sentiva protetta con lui, al sicuro. Anche questa cosa ammette di buon umore il ragazzo, i due quindi si avviano verso il parco e arrivano presto ai tavolini con sopra disegnate le scacchiere in cui Alexander era solito giocare. Questi tavolini in quel momento sono vuoti, non c'è nessuno in giro. Per non terminare quest'uscita comunque, che stava andando benissimo, i due si accendono altre sigarette, a oltranza, e si incamminano in un sentiero che porta sempre più in profondità dentro il bosco del parco. Poco dopo però, passo dopo passo, hanno come la sensazione di aver abbandonato il sentiero. È sera, quindi non vedono bene attorno a loro, e sotto i loro piedi cominciano a sentire rami secchi e piccoli sassi, non più un terreno sterrato. Erano talmente presi dalle loro conversazioni che non si sono resi conto di essersi addentrati così tanto in profondità nel bosco. Avevano proprio finito il sentiero e erano ormai nel bosco, tra gli alberi. Nonostante tutto, i due continuano ad avanzare, a fumare, a chiacchierare come se nulla fosse. Attorno a loro però ci sono solo tanti alberi alti e sotto i loro piedi un terreno quasi impraticabile. Alexander a questo punto sta camminando davanti a lei, e lei è dietro che lo segue, ma lui improvvisamente si ferma rendendosi conto che forse si erano addentrati un po' troppo. Quindi si volta e guarda la rissa, ma nota che in lei c'è qualcosa che non va. La donna ha un'espressione strana, come se fosse esausta, triste, sconvolta per chissà quale motivo. Dispiegabilmente la rissa ha come un mancamento. Si avvicina ad un albero lì vicino e la afferra con entrambe le braccia, e scivola poi lentamente a terra con la guancia contro l'asta dell'albero, come se stesse svenendo, sfinita e combattuta. Alexander non ha la minima idea di che cosa le stia succedendo, e ovviamente prova ad aiutarla. La vede lì abbracciata all'albero, disperata, e non sa che cosa fare. Lei poi inizia a piangere e tiene stretto l'albero come se fosse l'unica cosa che le è rimasta. E tra un singhiozzo e l'altro dice queste esatte parole. Sei tu il maniaco del parco? Alexander la fissa, fa un leggero sorriso, e le risponde... Sì, sono io. La rissa è disperata per averlo capito così tardi, si sente un idiota per averlo seguito, era praticamente uno sconosciuto, e si era addentrata con lui nelle profondità di un bosco, era così evidente e avrebbe tanto voluto capirlo prima. Ma ora è lì, sola, disperata, nessuno può andare a salvarla. Ecco perché aveva avuto quasi un mancamento e si era messa ad abbracciare quell'albero, perché era l'unica cosa a cui poteva reggersi prima di morire. La rissa continua a piangere disperata mentre Alexander si avvicina a lei, e gli chiede infine, mi ucciderai, e lui risponde di sì. Quindi tira fuori un martello, e le toglie la vita. Purtroppo questa non è l'unica vittima di Alexander, ovviamente il maniaco del parco era lui. Da anni le persone in quel parco continuavano a sparire, e il responsabile era sempre stato Alexander, ma la domanda sorge spontanea. Perché? Come? Vi ricordate il periodo in cui giocava a scacchi con suo nonno? Ecco è proprio lì che possiamo trovare qualche risposta. Facciamo quindi un passo indietro e torniamo agli inizi degli anni 90. Alexander in questo periodo gioca davvero spesso a scacchi, ed è diventato un fenomeno. Suo nonno lo adora, e anche i suoi avversari. Nonostante questo viene costantemente preso in giro, e come per la botta in testa dall'altalena, verso la fine della sua adolescenza subisce un altro trauma. Questa volta non un trauma fisico, ma emotivo. Forse addirittura più grave. Suo nonno materno. Muore. Ed era l'unico che aveva sempre creduto in lui. L'unico che gli avesse mai insegnato qualcosa di piacevole, e ora non c'era più. A causa di questa perdita, il ragazzo deve tornare a casa di sua madre, in quell'appartamento stretto e triste. A causa di tutto ciò, il ragazzo passa il peggior periodo della sua vita, subito dopo il suo periodo migliore. Non sa come sfogarsi, e gli scacchi non sembrano essere più sufficienti per lui. Ormai è un giovane adulto e può bere alcolici, così diventa presto un alcoolizzato. Beve vodka dalla mattina alla sera. Continua anche a giocare a scacchi, ovviamente, sia a casa che al pizza park. Ma adesso aggiunge anche l'alcol nella sua routine. Ogni scusa è buona per fare quelle due cose, bere e giocare a scacchi. Non conosce altro. O meglio, questa situazione di smarrimento dura per un po', ma ad un certo punto sviluppa un nuovo hobby. Siccome è sempre stato infuriato con il mondo intero per tutto quello che ha passato, ed essendo un ragazzo problematico, in lui comincia a nascere il desiderio di diventare un dio. Per una volta vuole essere lui ad avere il controllo sugli altri, a gestire il gioco e a vincere sempre, ma non solo negli scacchi. Quindi manifesta questo suo nuovo desiderio, sinistro e inquietante, principalmente sui bambini, che in effetti erano gli unici su cui poteva esercitare potere. Alexander quindi comincia a portare con sé una videocamera e, stando a ciò che racconterà in futuro, a riprendere mentre li minacciava di morte. Per il momento non toglie la vita a nessuno, vuole solo spaventare e sentirsi il padrone del mondo per una volta. Anzi, il padrone della vita di qualcun altro. Spesso si rivede i video che aveva fatto durante queste molestie, ma sente che non è abbastanza. Spaventare basta, non gli basta più, vuole andare oltre. E dato che conosce il parco a memoria, dal momento che ci va spesso per giocare a scacchi, mette in atto un piano perfetto. In quel periodo Alexander era finalmente riuscito a farsi un amico. Un certo Mikhail Odichuk, che era un suo compagno di classe. Ed era l'unico con cui andava d'accordo in realtà. I due andavano bene, si capivano, quindi in poco tempo erano diventati grandi amici. Ecco, il 27 luglio 1992, Alexander, diciottenne, organizza un incontro con Mikhail nel Bizza Park. Lì, gli spiega le sue intenzioni e gli racconta del suo piano perfetto. Gli dice di voler uccidere 64 persone. Lo stesso numero delle caselle presenti nella scacchiera. L'amico Mikhail in un primo momento addirittura accetta e si fa trasportare dall'idea di Alexander. Una volta sul posto però, sempre al parco, con il chiaro obiettivo di uccidere qualcuno, Mikhail ci ripensa. E infine dice al suo amico di non volerlo più fare. In quel momento non trovavano la persona giusta da uccidere, quindi dopo un po' Mikhail gli ha detto tipo Dai vabbè, facciamo un'altra volta, lasciamo stare. Tuttavia Alexander non la prende per niente bene. Non accetta questo rifiuto, si sente preso in giro, ancora una volta, e anche dal suo unico amico. Quindi decide di strangolarlo. In altre fonti si dice che abbia aspettato che Mikhail si girasse per poi colpirlo con una martellata in testa. E in qualsiasi modo sia andata, subito dopo Alexander trova un vecchio pozzo nelle vicinanze e getta lì il corpo del suo amico. Questo pozzo era davvero profondo, tipo circa 9 metri. E portava alle fogne sotto il Bizza Park. Praticamente, sotto quel pozzo c'era come un grande contenitore d'acqua che era collegato alle fogne tramite vari sistemi, vari percorsi, vari tunnel, ecco. Però proprio sotto questo pozzo c'era una sorta di contenitore, penso ci sia ancora in realtà, in cui l'acqua era sporca, ghiacciata e andava. Cioè, c'era una corrente perché veniva trasportata in tutti questi tunnel sotterranei. Insomma, una volta accaduti in quel pozzo non c'è alcuna possibilità di sopravvivere. Non sappiamo infatti se Mikhail si è effettivamente morto a causa dell'aggressione di Alexander oppure per via dell'annegamento tra le acque sporche sottoterra. Fatto sta che questa è la prima vittima ufficiale del ragazzo, che da questo momento si sente davvero un dio. Nonostante questo, il ragazzo non ucciderà per un bel po' di tempo. La sua vittima successiva sarebbe stata solo nel 2001, ben otto anni dopo. E forse perché si era spaventato. Perché sì, l'aveva fatta franca. Il corpo di Mikhail non era mai stato ritrovato, ma quanto pare la polizia aveva aperto un'indagine sulla sua sparizione. Dei testimoni affermarono di aver visto i due ragazzi addentrarsi nei boschi del Pizza Park prima della sparizione. Alexander dunque venne arrestato e interrogato, ma alla fine, senza alcuna prova, venne rilasciato. Ed è assurdo. Cavolo, ce l'avevano. Se avessero trovato delle prove, decine di vite sarebbero state risparmiate. Arriviamo quindi al 17 maggio del 2001. Sono passati otto anni dal primo omicidio. E quel giorno Alexander è al parco a giocare a scacchi con un suo amico, Yevgeny Pronin. Quando la partita finisce, l'uomo invita Yevgeny a fare una passeggiata con lui. Gli dice che aveva un cane, che era morto un anno prima, proprio in quel giorno. E lo aveva seppellito lì nel parco. Voleva quindi portarlo a vedere il luogo in cui lo aveva seppellito per brindare alla sua memoria. Yevgeny ovviamente accetta, anzi è più che contento di accompagnarlo. Ripeto, sono amici. Adorava Alexander. Quindi i due si incamminano fino ad arrivare in un punto isolato, molto vicino al famoso pozzo. Lì l'assassino gli offre un po' di vodka per bere insieme alla memoria del cane. E dopo qualche minuto, gli fa accenno di incamminarsi per tornare le scacchiere. Quindi Yevgeny si gira, fa per tornare sul sentiero, ma appena rivolge le spalle verso Alexander, lui prende il suo martello e lo colpisce alla testa. Poi come aveva fatto con la prima vittima, lo getta nel pozzo lì vicino. Per anni questo sarebbe stato il suo modo superandi. Ecco perché la polizia non riusciva a trovare i corpi nel parco, perché semplicemente non erano lì. Nel corso degli anni successivi Alexander avrebbe voluto uccidere 64 persone, come da piano originale. Ma il numero delle vittime non raggiungerà mai quello delle caselle della scacchiera, per fortuna. Addirittura tre di queste sono riuscite a sopravvivere all'aggressione. La prima sopravvissuta è una donna, una certa Maria Viricheva. Maria lavorava come commessa ed era in dolce attesa. Il 23 febbraio 2002 Alexander l'ha tirata con una scusa fino a un punto remoto del bosco del parco, come avrebbe fatto poi con la rissa. Poi come al solito l'ha colpita con il suo martello. Ma una volta gettata nel pozzo, la donna rimase incastrata, miracolosamente, a dei pezzi di metallo che sporgevano dalle pareti. E sempre miracolosamente Alexander non se ne accorse e andò via. Una cosa molto simile accadde con un altro ragazzo, un altro Mikhail, ma di cognome Lobov. Lo chiamerò Lobov per non confondervi. E tra l'altro, scusate se non sono riuscito a trovare tutte le foto delle vittime e delle persone coinvolte, ma proprio non le ho trovate da nessuna parte. Comunque dicevo, anche lui venne attirato nei meandri del bosco da Alexander, che gli aveva promesso vodka e sigarette. Poi anche lui venne colpito dal suo martello e gettato nel pozzo. E anche lui si impigliò casualmente in un pezzo di metallo che fuoriusciva dalle pareti interne del pozzo. In entrambi i casi le vittime ripresero conoscenza e riuscirono in qualche modo a risalire e liberarsi. Poi entrambi provarono a denunciare l'accaduto, andarono entrambi alla polizia, ed entrambi dissero di essere stati quasi uccisi da Alexander. Ma la polizia per un motivo o per l'altro non li ha ascoltati, anzi ha addirittura detto loro di chiudere la bocca, altrimenti sarebbero stati arrestati. Nel caso di Maria, perché a quanto pare era immigrata clandestinamente, ma nel caso di Lobov non sono riuscito a trovare il perché. Cioè, davvero allucinante. Queste erano le cavolo di prove che non avevano trovato anni prima contro di lui, eppure non le hanno accettate. E per via di questo, Alexander sarebbe stato libero di mietere ancora decine e decine di vittime. A quanto pare anche un certo Konstantin Polikarpov, un vicino di casa di Alexander, sopravvisse ad una sua aggressione. Ma una volta risalito dal pozzo, non ricordava nulla a causa del pesante trauma cranico inferto dall'aggressore. Tutte le altre vittime dal 2001 al 2006 hanno perso la vita, tutte bene o male nello stesso modo. Negli ultimi dilitti però Alexander ha cambiato il modus operandi e è diventato più crudele. A partire dalla vittima di nome Nicolai, l'ex poliziotto per intenderci, Alex aveva cominciato ad infierire sui cadaveri, conficcando oggetti, spesso bottiglie di vodka, nelle ferite mortali delle vittime. Ma come facciamo a sapere tutte queste cose? Come è venuto a galla tutto quanto? Ecco, dopo il diritto di Larissa, finalmente il caso prende una svolta decisiva. È il 14 giugno del 2006 e Alexander vuole attirare un'altra donna nel parco. Questa si chiama Marina Moskaliova e ha 35 anni. Anche lei, come Larissa, era una collega che aveva cominciato da poco a lavorare nello stesso supermercato in cui lavorava Alexander. Il suo lavoro consisteva proprio nel sostituire Larissa che era scomparsa poco prima. Ancora una volta l'uomo la vede e cerca di entrare in sintonia con lei. Anche questa volta ci riesce nonostante i suoi modi un po' impacciati e fanno per dirigersi insieme al famoso parco. Prima di andarci però Marina gli spiega che deve tornare a casa, un attimo, giusto un attimo, per avvisare suo figlio. Doveva dirgli che sarebbe stata via giusto il tempo di fare una passeggiata al parco. Così prendono insieme la metro e vanno a casa di lei. La donna entra in casa e lascia un bigliettino a suo figlio in cui dice che sta uscendo con il collega Alexander e sta andando al Bizza Park. Anche la prontezza di lasciare il numero di telefono dell'uomo nella nota, così, giusto per precauzione. Un dettaglio importante che tornerà utile dopo. Dopo tutto ciò comunque escono insieme, prendono la metro e vengono anche ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre si dirigono al parco. L'uomo però sa che questa volta non è come le altre, perché in quel periodo, se ricordate, la polizia era letteralmente ovunque. Avevano aumentato la vigilanza, sparizione dopo sparizione. Per cui sarebbe stato molto difficile per lui uccidere senza farsi beccare. Inoltre, sa che Marina ha scritto quella nota a suo figlio. Sa che qualcuno avrebbe potuto insospettirsi e risalire a lui. Dunque non sa bene cosa fare, è un po' preso dall'ansia. Ma nonostante questi pensieri, comunque riesce a portarla nelle profondità del parco, nella zona boscosa. E decide di ucciderla comunque. Molti pensano che a questo punto lui abbia voluto compiere il diritto apposta per essere scoperto. E in effetti, tutti gli ultimi micidi erano stati più sadici, più appariscenti. Si crede che il killer in quel periodo stesse uccidendo solo per mostrarsi, per avere fama. E per rivaleggiare con un suo idolo. Il serial killer russo Andrei Cicatilo. Un uomo condannato per aver ucciso 52 bambini e giovani donne in un periodo di 12 anni. Comunque stiano le cose, alla fine uccide anche lei a colpi di martello. Ma, come era prevedibile, il figlio adolescente di Marina si preoccupa per sua madre. Dal momento che non fa ritorno a casa. Allora il ragazzo prende il bigliettino e chiama Alexander. Lui risponde. E gli dice che non aveva mai visto sua madre. Il che semplicemente non aveva senso. Il ragazzo per fortuna non è scemo, non si lascia bindolare. Ed ecco quindi che chiama subito suo padre. Spiegandogli tutto quanto. Quest'ultimo allora chiama la polizia e racconta loro tutto quello che è successo. E soli due giorni dopo, Alexander Pichushkin viene finalmente arrestato. Immaginate lo scandalo enorme che ha suscitato questo arresto. Finalmente la piaga che da anni stava distruggendo il parco è stata debellata. Ma ci sono ancora un paio di cose inquietanti che gli investigatori scoprono su di lui. Perquisendo la sua casa trovano un tacquino. Un diario personale. Dentro questo tacquino c'è l'immagine di una scacchiera. In cui ogni casella è contrassegnata da un numero. In realtà non tutte e 64 le caselle sono segnate ma 61 sì. Ognuno di questi numeri. Ognuno di questi segni. Stava ad indicare una vittima. Questo significa che le vittime che Alexander crede di aver ucciso sono 61. Più avanti si scoprirà come vi ho già detto che 3 di gloro sono sopravvissute. Ma nonostante questo si parla comunque di quasi 60 omicidi. Ci rendiamo conto? Poche altre vittime avrebbero completato la sua macabra collezione. Questo se ci pensate è sempre stato il suo piano da quando aveva solo 18 anni. Lo stesso piano che aveva spiegato alla sua prima vittima. Ora gli agenti hanno tutte le prove necessarie. Gli scacchi per lui hanno rappresentato tutto. E questo tacquino dimostra la sua malata ossessione. A grande sorpresa Alexander collabora tantissimo con la polizia. Al fine di confermare ogni cosa che aveva fatto. Porta addirittura gli agenti nel luogo dei delitti. E fa una ricostruzione delle aggressioni. È assolutamente collaborativo. Ed è addirittura felice di come stiano andando le cose. Assurdo. Anche grazie alle sue testimonianze in totale vengono ritrovati 48 corpi senza vita. Ma nonostante questa sua estrema collaborazione durante il processo l'uomo cerca di cambiare versione e prova ovviamente a farsi ridurre la pena. Ma il 24 ottobre del 2007 viene condannato all'ergassolo per 49 omicidi accertati e 3 tentati omicidi. Pensate che arriva anche a chiedere al tribunale di aggiungere addirittura 11 vittime al conteggio. Portando il bilancio delle vittime dichiarate a 60 più 3 sopravvissuti. Però per queste 11 vittime aggiuntive non c'erano prove e quindi fu inutile. Ma questo suo desiderio di aumentare il numero fa proprio capire la sua voglia di dipingersi come un dio. Come per dire guardate che sono di più. Io sono più forte e ne ho fatti fuori molti di più di quanto state dicendo. Non sottovalutatemi. Prima di tirare le somme comunque volevo riportarvi alcune sue parole. Un suo interrogatorio infatti è stato trasmesso sulla rete russa NTV nel luglio del 2006. Queste le parole dell'ispettore Glimov rivolte ad Alexander. Perché ha ucciso la signora Moskaliova, la sua collega? Ha forse respinto le sue avance. Lo ammetta, le piacciono le donne tardone. Non è un reato. L'ha portata nel bosco? Quella lo ha respinto e lei le ha spaccato la testa con un martello. Lei è solo uno squalido e depravato. Lo ammetta. Al che? Alexander ha risposto. Voi non avete capito niente. Volete la verità? E allora vi dirò io la verità. Cercate il maniaco di Bicevski. Ebbene sono io. Lo sa da quanto tempo faccio questa vita? Dal 1992. Sono 15 anni che vado avanti. Quell'anno uccisi il mio compagno di studi. Non provai nulla. E poi continuai. Sceglievo soprattutto vecchi. Uomini e me donne. Sono più deboli. Una ventina li conoscevo. Gli altri li sceglievo a caso al parco. Offrivo loro un sorso di vodka e si iniziava a chiacchierare. E quando meno se lo aspettavano, bang. Li colpivo con il martello alla nuca. Dopo la prima dozzina mi venne in mente qual era il piano grandioso che avrei dovuto portare a termine. Uccidere una persona per ognuna delle caselle della scacchiera. 64. Altro che Kasparov. Sarei stato io il più grande scacchista del mondo. Avete notato come la polizia, ma anche l'ispettore che ha fatto l'interrogatorio, fossero irrispettosi? Cioè, è assurdo che loro si rivolgessero alle vittime in questo modo. L'ispettore l'ha chiamata Tardona. Una vittima. Sicuramente ci sono dei motivi socioculturali dietro a queste parole. Dietro a questi comportamenti della polizia che per anni non ha indagato e non ha fatto nulla. Se ne è sbattuta. Però, vista con i nostri occhi, tutta questa situazione non ha senso. Secondo me, questa è una mia persona l'opinione, in questo caso anche la polizia è complice. Perché a un certo punto avevano letteralmente tutte le prove di cui avevano bisogno per incarcerare Alexander, ma nonostante tutto, dopo che hanno ritrovato i tre sopravvissuti, nonostante tutto hanno deciso di non farlo. Cioè l'hanno deciso di non farlo e hanno deciso di non indagare. Non lo so, questa cosa mi fa davvero rabbrividire. Pensare che neanche la polizia fa qualcosa e anzi ridicolizzi è veramente assurdo. Questa cosa mi ha fatto veramente venire i brividi. Chiusa questa piccola parentesi, ancora oggi Alexander si trova dietro le sbarre e tutti si augurano ovviamente che ci rimanga davvero per tutta la vita. I parenti delle vittime comunque si stanno battendo perché venga condannato a morte, ma la Russia non ha più giustiziato nessuno a partire dal 1996. E il regolamento del Consiglio d'Europa vieta di farlo in qualsiasi momento futuro. Tuttavia la pena di morte rimane ancora nel suo codice, dando una macabra speranza ai parenti delle vittime. Le azioni indicibili del soprannominato killer della scacchiera hanno per sempre segnato il destino di quel parco di Mosca, che una volta era tranquillo e amato da tutti. Non so se oggi sia tornato alla normalità, ma non credo. Se qualcuno di voi è stato in quel parco o magari vive a Mosca e conosce i dettagli su come sia evoluta la situazione nel parco, per favore ce lo faccia sapere. Questo comunque era tutto quello che sono riuscito a trovare sull'uomo che ha terrorizzato la Russia. Conoscevate la sua storia? Pensavate che sarebbe stato in grado di mietere tutte quelle vittime? Ci vediamo qui sotto nei commenti. Intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che quest'anno proverò con tutte le mie forze, vi giuro, tutte le mie forze, proverò ogni tanto a fare due video a settimana. Per il momento non vi prometto nulla perché ci vuole davvero tantissimo tempo a mettere in piedi questi video. Tantissimo. Poi io sono pure lento perché devo cercare, devo scrivere bene tutto quanto. Sono molto lento. Però comunque ci provo, mi sto focalizzando al 100%. Fate 90% perché l'altro 10% è impegnato in un altro progetto che vi svelerò più avanti. Non vedo l'ora. Comunque sto cercando di portarmi avanti anche grazie alle vicende che mi consigliate voi. Spero quindi che rimarrete nei paraggi, per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti. E adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!